Far crescere la cultura del dono, inteso come donazione di sangue, anche nei paesi extraeuropei e sviluppare tale cultura anche nei cittadini di quei paesi che sono immigrati in Italia. Questo è l'obiettivo dello scambio culturale tra l'Associazione Marocchina Donatori Sangue e l'Avis, in virtù del quale un medico, un infermiere e un dirigente associativo marocchini, che lavorano nell'ambito della raccolta del sangue, stanno visitando le realtà trasfusionali provinciali di Bologna, Modena e Rimini. Durante la tappa riminese, gli operatori hanno visitato il servizio trasfusionale e il punto di raccolta dell'ospedale infermi di Rimini. Sentiamo la dottoressa Scerradi, una delle componenti dell'equipe in visita. Allora, lei prima di tutto ringrazia tutti quanti per l'accoglienza e vi ringrazia la radio e la tv. Questa loro visita si inserisce all'interno di un progetto avviato da un'associazione di donazione di sangue. Quindi siete qui anche per vedere come funziona la donazione di sangue in Italia? Il nostro primo obiettivo, obiettivo essenziale, è quello di sensibilizzare la comunità marocchina a donare il sangue. Il secondo obiettivo è quello di uno scambio di esperienze, quello di far vedere quanto noi come associazione o come attori facciamo in Marocco, ma per vedere anche il livello qui in Italia. Allora, sono solo da due o tre giorni che sono qui, quindi è un breve tempo per vedere tutto quello che c'è da vedere. Però hanno trovato, visitando comunque i centri di accoglienza a Bologna, prima di venire qui a Rimini, il livello o le tecniche usate nella trasfusione sono le stesse usate anche in Marocco. La seconda cosa molto importante per loro era contattarsi o mettersi in contatto con le associazioni qui o con le comunità, la comunità marocchina, per sensibilizzare queste persone, perché loro hanno visto che le persone che hanno incontrato hanno la volontà di partecipare o di donare, ma hanno solo bisogno di essere sensibilizzati e quindi di costruire questi punti di incontro.